Non passa giorno che le presenta la Regione Rosario Crocetta e non trovi qualche spina nella composizione della squadra assessoriale. Dopo Patrizia Valenti, rinviata a giudizio per omissione di atti di ufficio, adesso a finire sulla graticola l'assessore ai beni culturale Antonino Zichichi, il cui figlio, Lorenzo, sarebbe fra i soci della Nuova Musa, società finita al centro di un'inchiesta palermitana sui servizi nei musei. E non è mancata, immediata, la presa di posizione dell'Eccase candidata alla Presidenza della Regione Ello Musumeci, che parla di evidente e intollerabile conflitto di interessi, parole tra l'altro che trovano risconti in una sentenza del tale della Puglia che parla di una società, la Nuova Musa appunto, che si è giudicata la gara per i servizi aggiuntivi nei musei pugliesi e si è dovuta difendere al ricorso, poi rigettato, di due società concorrenti. Detto in soldoni, Lorenzo Zichichi che in causa ha pensato un po' contro l'assessorato, retto dal padre, abbastanza irritata in serata, lo stesso Presidente Crocetta che avrebbe affermato di volere approfondire la vicenda. Datemi tempo, avrebbe esclamato con fastidia i suoi stretti collaboratori, perché qui spunta un caso dopo l'altro e non sono certo un santo.